Si ritorna a parlare nuovamente di Ciro che è l'evento ed è anche il personaggio che ha reso benevento Pietra Roia famosa nel mondo. Siamo con Gennaro Santamaria per parlare di un congresso, sei giorni importanti con l'arrivo di sia collegati telematicamente che fisicamente di oltre 200 paleontologi. Che cosa dobbiamo aspettarci in questi sei giorni? Ebbè, diciamo, questo evento rimette a centro l'ente geopaleontologico di Pietra Roia di quella che è la comunità scientifica dei paleontologi, questa volta europei. Noi già abbiamo ospitato nel 2019 il congresso nazionale della società paleontologica italiana. Proprio il successo di quell'evento ha determinato la scelta da parte dell'Associazione Europea dei Paleontologi dei Vertebrati di chiedere all'ente di essere partner nell'organizzazione di questo congresso, diciannovesimo congresso appunto. Avremmo dovuto celebrarlo nel 2020, purtroppo le note vicende legate alla pandemia hanno interrotto questa organizzazione, l'abbiamo ripresa appena stata possibile perché appunto c'era la voglia da parte di questi studiosi di essere qui a Benevento, a Pietra Roia, per ammirare sia i fossili e in particolare di Pietra Roia, quello di Scipionix, di Ciro, ma anche per visitare il geosito di Pietra Roia, cosa che avverrà nel giorno di giovedì 30 quando tutta quanta l'organizzazione del congresso si sposterà da Benevento a Pietra Roia. Insieme a questo c'è anche un altro evento collaterale che è un modo anche per avvicinare non solo gli specialisti, ma anche i cittadini a quello che è diciamo questa grande scoperta e quindi l'apertura del complesso di Viale Atlantici, un invito alle persone a conoscere ancora di più quello che è proprio patrimonio. Esattamente, abbiamo pensato appunto perché questa scienza della paleontologia ai più è poco nota, quindi avere l'opportunità di avvicinare la gente comune agli studiosi di questa materia, facendola attraverso il racconto dei fossili del nostro territorio. Cioè saranno i paleontologi a spiegare ai cittadini comuni che cos'è Ciro, la ricchezza di quel fossile e del geosito di Pietra Roia che è appunto un unicum a livello italiano e lo è anche a livello mondiale e quindi la gente potrà in quei giorni visitare lì al San Felice gratuitamente con le guide appunto dei paleontologi il fossile di Scipionics. Doneremo anche dei gadget a tutti quanti i visitatori, le visite dovranno essere prenotate, abbiamo mandato i nostri indirizzi e i nostri numeri telefonici attraverso la comunicazione a tutti, abbiamo già un alto numero di prenotazioni quindi riteniamo che anche questa parte dell'organizzazione sarà un buon successo. Per chiudere due curiosità, la prima ne abbiamo parlato a telecamere spente, è anche un segnale tra virgolette di pace e libertà, non c'è stato embargo nei confronti dei paleontologi russi che saranno presenti a Benevento anche loro? La scienza non ha confini e non ne deve avere e quindi l'associazione ha scelto, noi che chiaramente abbiamo condiviso, di non porre nessuna limitazione nella partecipazione. Ci saranno almeno una decina di studiosi russi che in presenza o da remoto saranno presenti al congresso, così come ci saranno studiosi di altre nazioni del globo proprio perché appunto la scienza unisce e tra le altre cose la scienza che riguarda la Terra e la nostra sopravvivenza su questo pianeta è importantissimo. Infatti molti non hanno la consapevolezza di quanto sia importante la scienza della geologia e della paleontologia. Questi studi ci permettono di capire come la Terra è mutata nei miliardi di anni da quando è nata e quante vite ci sono alternate su questo pianeta, quante catastrofe il pianeta ha subito e quante potrebbe ancora subirne. Quindi conoscere il passato e le pietre ci parlano del passato significa poter anche prevedere in qualche modo il futuro. Infine, ma Ciro rimarrà figlio unico o dobbiamo aspettarci, possiamo aspettarci che il Sannio possa dare qualche altro reperto come Ciro? E' proprio questa, diciamo, la finalità principale che è stata attribuita al nostro ente, all'ente geopaleontologico di Pietraroia, che è affidatario del Parco Paleontologico di Pietraroia. E' un unicum a livello nazionale. Noi siamo ovviamente una nazione ricca di archeologia, perché chiaramente abbiamo avuto qui l'esistenza della più grande civiltà dell'uomo moderno, quindi la Romanità, e abbiamo tanti parchi archeologici, ma non ne avevamo, se non appunto quello di Pietraroia, di parchi paleontologici. Quindi noi è come se avessimo la Pompei della paleontologia tra le mani. Dobbiamo proprio continuare la ricerca e siamo convinti, naturalmente, che se c'era Scipionix a Pietraroia e c'erano tanti altri fossili di animali, anfibi, pesci e quant'altro, sicuramente ci saranno altri fossili di importanti animali, probabilmente anche dinosauri. a